Huawei Mate X Cos'è una Huawei Mate X? Guarda te lo stop e te lo spiego Cos'è successo a Huawei Mate X? Che c'è stata una balanza di commenti Da parte dei utenti iPhone Che si lamentano del fatto che Questo cazzo di telefono pieghevole Costi più di un iPhone 2299 A pensarci bene Ho detto cazzo ma loro non ce l'hanno un iPhone pieghevole No l'hanno fatto nel 2016 Grazie